Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Quella con cui oggi apriamo la nostra puntata è una triste, direi piuttosto inquietante rassegna stampa perché i titoli dei giornali che vi mostriamo inquadrati nei nostri schermi ben selezionati da noi rappresentano ahimè i casi riportati dalla stampa soltanto nella scorsa settimana. Abbiamo detto che il coro d'ombra non c'è più, se ne parla sui giornali, abbiamo detto che abbiamo cancellato il concetto di delitto passionale ma di recente, cara dottoressa Proietti, una ricerca dell'Università di Torino del Politecnico ci ha un po' creato dei problemi, cioè nel senso del... I dati sono davvero incredibili perché guardate il titolo, il titolo che stiamo per vedere spiega che la ricerca giustifica in qualche modo per gli intervistati la violenza sulle donne è colpa delle donne addirittura per uno studente su tre. Insomma, per gli intervistati le donne se la cercano? Se la vanno a cercare e quindi quello che si possono aspettare... Ma davvero c'è chi pensa ancora a questo? Eh sì, purtroppo c'è questa sensazione perché allora quando c'è uno stupro, una violenza invece di chiedersi ma come mai questo uomo non è riuscito a contenere l'impulso sessuale ci si chiede ma questa donna stuprata come era vestita, quanti partner aveva avuto, che comportamento aveva avuto... Però io non posso credere che le nuove generazioni la pensino così. Eppure, guardi, bisogna che lei ci creda perché ancora siamo a questo livello. Tuttavia io devo spezzare un lancio a favore degli studenti del Politecnico e dell'Università di Torino che hanno partecipato a questo sondaggio che è molto controverso, dottoressa, anche perché si sta ridiscutendo la somministrazione delle domande che sembra fossero acquisiti abbastanza ambigui perché sono molto anche le ragazze che hanno dato quelle risposte, quindi in attesa. Certo è che l'attenzione sui giovani, e poi ci torneremo, va tenuta alta psicologico perché questo copione, che è una parola che ricorre oggi, si ripete molto, no? Le botte, gli insulti, le minacce e poi scusa, scusa, perdono. No, scusa, infatti, questi mariti che forse non sono in grado di capire quando in realtà si manifestano come persone violente perché hanno avuto dei modelli educativi o forse fa parte, diciamo, del degrado in cui alcune persone sono vissute. Per cui non si rendono conto di manifestare degli atteggiamenti violenti nei confronti delle donne. E qui c'è il problema perché noi psicoterapeuti possiamo aiutare una persona che sia consapevole di aver sbagliato e che voglia cambiare, che voglia maturare, fare un percorso. Ma se non ci si rende conto di avere un problema, noi siamo quasi impotenti. Bonicelli, chiudiamo così la faccenda dei braccialetti, ma secondo lei se li utilizzassimo sarebbero un'efficace deterrente? Qui a parlarne, ma speriamo insomma fuori da un'emergenza così stretta. Grazie a tutti i nostri ospiti, torneremo su questo tema. Torneremo senz'altro.